Totò Schillaci sta tenendo con il fiato sospeso milioni di italiani, i medici dall'ospedale hanno appena fatto sapere che… Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. In questo video trattiamo una notizia arrivata durante la notte, che riguarda la salute di Totò Schillaci, il celebre ex calciatore italiano. Totò Schillaci, 59 anni, che tutti ricordiamo per aver fatto sognare l'Italia ai mondiali del 1990 con le sue straordinarie prestazioni, è attualmente al centro di una difficile battaglia contro il cancro al colon. Il suo ricovero presso il reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo ha tenuto l'intero paese col fiato sospeso. Schillaci, simbolo di forza e determinazione sul campo, ora sta dimostrando lo stesso spirito di combattente nella sua lotta personale. Fortunatamente, secondo le ultime informazioni condivise dalla sua famiglia, le sue condizioni stanno migliorando gradualmente, e l'ex campione sta reagendo positivamente alle cure. Questa notizia ci riempie di speranza, e tutto il paese si stringe intorno a Totò in un grande abbraccio collettivo, sperando che presto possa tornare a sorridere e lasciarsi alle spalle questo difficile momento. La sua tenacia ci fa ben sperare, e tutti noi tifiamo affinché questo brutto capitolo diventi solo un ricordo del passato. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti, e non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.